ciao ragazzi nuovo video tutto tech beh in questo video vi devo dire che amazon sta veramente esagerando il nostro dispositivo vocale nel precedente video vi ho fatto vedere che con meno di un minuto di registrazione vocale può riprodurre poi qualsiasi voce una fase sperimentale ma pensano di portarla poi a termine applicandola direttamente sui nostri dispositivi ma quello che ho scoperto oggi supera di gran lunga quella funzione è un qualcosa che sta suscitando clamore su tutti i social sto parlando di questo ragazzi parla corsivo ma certo ho studiato e ora sono tra i migliori alun seguo tutte le lezioni di corsivo non vedo l'ora arrivi la prossima verifica cosa aggiungere si no adesso a parte gli scherzi era una funzione che ho scoperto oggi ho detto no non è vero l'avranno creata loro di proposito magari qualcuno che si è dilettato creare qualche routine particolare invece no funziona veramente cioè non sapevo se ridere o essere rammaricato di questa cosa dell'attristato oddio con questa storia del corsivo veramente dappertutto vabbè io comunque sono per la libertà cioè vuoi farlo fallo chi si diverte si diverte chi non mi piace cambia e via scrivetevi sotto se questa cosa vi diverte o anche voi siete di quelli che dicono basta ma a parte gli scherzi era un video così breve per farvi sentire un'altra cosa che è stata aggiunta un altro easter egg che è stato aggiunto al nostro dispositivo vocale che mi sembrava simpatico da farvi sentire il video si conclude qui e ci vediamo presto con un altro video con una novità novità inteso come a volte avete problemi con i vostri dispositivi beh noi di tutto tec vediamo di darvi qualche soluzione e se poi non funziona beh stacca attacca soluzione helpdesk che di solito funziona sempre scherzi a parte ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao